Questo intervento prevede la ricostruzione della struttura della scuola dell'infanzia con dei criteri di tipo architettonico, compositivo e didattico completamente diversi dall'attuale edificio che ha una forma C. L'intervento prevede sostanzialmente anche la realizzazione di un asilo nido per 45 posti, per 45 bambini e 9 sezioni della scuola dell'infanzia, della scuola materna per un totale di 270 bambini. L'edificio si avvale di tutti i concetti più aggiornati della didattica che interagisce con l'architettura proprio per favorire la crescita educativa e culturale dei bambini. sarà sostanzialmente costituito da tre stecche orientate nel senso ovest-est e quindi affacciate a sud proprio per permettere la godibilità dell'ambiente esterno e consentire al bambino di rendersi conto del mutamento stagionale, del mutamento orario, secondo questi nuovi criteri di didattica e questi nuovi criteri educativi. Quindi la scuola rimane localizzata nel posto in cui è, su un terreno che è di una fondazione, appunto la fondazione dell'infanzia, che verrà temporaneamente ceduto all'amministrazione comunale per realizzare questo standard qualitativo. L'edificio è quindi architettonicamente diverso dall'attuale e sicuramente costituirà un punto di partenza molto importante sotto il profilo didattico per l'educazione dei futuri cittadini clusionesi.